Ora andiamo, pa pa pa, pa ram pa. Che cos'è questo? Un orso. Come fanno gli orsi? Bravi, pa pa pa, pa ram pa. Che cos'è questo? Come fanno i pesci? Bravissimi, andiamo, pa pa pa, pa ram pa. E questa cos'è? Come fanno le pecore? Come fanno le pecore? Bravissimi, pa pa pa, pa ram pa. Cantate, bimbi. Che cos'è questo, bimbi? È questa? Chi ce l'ha la cucina a casa? E chi cucina a casa? La mamma o il papà? La zia, la nonna? Voi cucinate? Cosa cucini a casa? La bella. Bella. E tu cosa cucini? Chi è che? E tu? Chi? 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 Mi piacciono le colpette. Mi piacciono le colpette. A chi piacciono le colpette? A tutti? Allora andiamo, bimbi. Pa pa pa, pa ra pa. Pa pa pa, pa ra pa. Bimbi, che cos'è questo? Come fanno i cani? Più forte? Chi ce l'ha il cagnolino a casa? Chi ne ha due? Chi ne ha tre? Chi ne ha dieci? Chi ne ha dieci? Hai dieci cani a casa? Sì. Chi sei venuta? Mamma. Qual è la tua mamma? L'angelo. Dov'è Angelica? Veramente avete dieci cani a casa? La mamma dice di no. Poi chi ha troveva dieci cani? Dov'è mamma Anna? Anna. Dov'è mamma Anna? È vero? Non si dicono le bugie agli figli bambini a Natale. Allora, bimbi, siamo quasi arrivati alla fine di questo museo. Venite un po' avanti, cantando che cosa? Pa pa pa, pa ra pa. Bimbi, che cos'è questo? O un pulcino di una papperella. Come fanno le pappere? Bravissimi. Adesso seguite tutti l'Elfo Luca, che vi porta in un'altra parte del magico mondo del Papo Natale. Siete pronti? Più forte, siete pronti? Sì. Allora seguitele nel frattempo cantate. Pa pa pa.